Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Foricraftori Siamo qui con Eren, Emerald, Dirless e Tech Yeah, siamo sempre su questa mappa bellissima Lo dico perché è la mia serie preferita Wow, anche la mia E' pronto il timer? Sì Allora bimbi, 3, 2, 1, via Via, il timer di 11 minuti è partito Che cazzo vuoi? Ma è stronzo Ma perché? Perché sono crashato? Non sei crashato, ti ha cacciato Pensavo mi avessero cliccato Ti ha cacciato Raga, la prima arma che ho preso è l'L96 e ho detto tutto Dai, ragazzi Tranquillo, ci sono io al Barrett Allora, o siete buggati o siete citati Raga, io ho trovato due OSP e una Glock Ho paura Ma sei tornato? Sì Perché lo vuoi richiccare? No, non l'ho chiccato io È crashato Sì, sì, sicuro A me è dato l'idea A me è dato il messaggio di crash Non di sei stato chiccato, sei stato bannato Eh, a posto Ma se c'è scritto in chat Eri in Blaze, kick, the Tearless Raptor Quando mai? Ma no, perché gli invedi ste cose? C'è poi il tuo video Poi che ce l'abbiamo tutti la chat Oh, oh scemi Oh, è l96? Ciao, tec Ah, sei, eri tu? Ti è piaciuto il colpone, il coppino Ehi Vabbè raga, io sono già contento così Via Sono a posto Ragazzi, cominciate subito a fare gli spicy Cos'è questa risata? Oh, jetpack baby No, vabbè Stiamo tirando le sberlette sul coppino Ma mi stai ancora seguendo, tec? Ci sono lucky block troppo fortunati in questa app Ogni volta jetpack, varrette esplosivi Cosa? Ho già trovato due armi buonissime io Però non sono molto buone quanto le vostre Avrei trovato i lucky block buggati di ieri No, no, no Io ho trovato soltanto un AUG e uno scorpione Che sia caro, sono ottime armi Però nulla di eccezionale come le vostre Che jetpack e tu Gli scorpion sono anche una bella band Sai che non so di cosa parli? Oh mio Dio Sei troppo giovane Belle steve, belle steve Ah raga, è del 96 io Sei troppo giovane, Tano Ma che cazzo volete che siete dei pischelli tutti quanti? A parte te Vabbè capirai Tec è 95 Non è che siccome ha un anno in più di me Uh Portati un po' male Tu ho un padre di famiglia Esatto Vi adotto tutti e poi vi scarico sotto un po' Guarda che fino a provare a contare ai padri di famiglia In questa stanza di TeamSpeak sono due Anche tu? Sì Che è che hai finito prima di scappare? No vabbè No raga Voglio farci un video serio Taglio, taglio Non posso dirlo così Vabbè comunque Allora siamo in tre Tano Io una volta ho messo incinta uno E poi sono scappato Davvero? Eh sì Bro no Non te l'ho mai raccontato In realtà aveva fatto un viaggio nel tempo E Incredibile Tiar è suo nonno Sono frai di Futurama Esatto Secondo me Tyrless invece è mia madre Che brutto in balta Ti ho allattato? Magari Magari Che merda No Del tipo Si sa che il latte Papile è più buono Papile? Scusami Allora quello materno si dice materno E quello del padre? Paterno Paterno Testa di cazzo Papite Papite Si dice papile ragazzi Non prendetemi in giro Dai Papina Io c'ho le caramelle Raga Così imparate a prendere in giro il bontano Che è massimo esperto di latte papile Le papile gustative C'hai? Si Perché no Perché no E ora che ci penso C'è una cosa spicy in questa mappa Cosa? Dovrei andarla a prendere No in verità se non c'è andato Aaron ci vado io I lucky block sul muro Ma non mi ricordo dove stanno Eh sono fortunati però sai com'è Io ho trovato un'altra cosa che sul jetpack Vado sempre a prendere Oh Minigun No Armatura leggendaria Va bene ragazzi Ok La mia dignità Scusami Io quella non l'ho mai trovata È trovata in un lucky block non fortunato Eh già Cazzo Uffo Trano di solito chi fa i lucky block la perde la dignità Come Tano Oh scemo Cosa vuoi da me? Io sono massimo esperto di lucky block Massimo spraim Tu sei massimo autismo No quello è mm massimo autismo Sì esatto Ma non è vero Sì il fratello di puro Esatto Ma come si chiamava il padre di puro? Sì non mi dico più Arturo Ah Arturo E la madre? Artura? No No Era Non era impura 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 Madre impura Che content raga Che content raga Che content Che cazzo è che ha caricato un'arma? Poi avevo Ah si tu t'hanno questo Oh una Che posso sparare? Se vuoi un pallo Sparare? Ok Quindi io appena vedo qualcuno Comincio a far sentire la presenza Ve lo dico Oh si fammela sentire tutta me Taro Tanto ce l'hai piccolo Uff Small uff Anche perché big non può essere Comunque Tano io prima ti ho visto Ti stavo seguendo Ho detto no dai siamo inizio video Vabbè ma anche io ho salvato Ho salvato tirlo Ma quello che sparava prima Dove è finito? Ero io Magari te lo sei sognato Eri tu? No no Allora Ho sentito qualcuno sparare prima Tano ha sparato a me Poi non so se qualcuno No ho sentito delle bombe io arrivare Allora no Non ero io Io non so cosa siano le bombe Un movimento sensual Raga La safe E non è ancora scattato La safe Vuoi sapere dove stringe? Nell'acqua Sul fiume Perché Tano ha delle idee di merda No ragazzi Sono idee bellissime Ok Tano Quanto ti ho tolto? Con la mia Due cuori e uno Cioè tra l'alliata di AUG Ma no Un colpo solo mi è arrivato Mi sa A cross the map Davvero? Wow Ti vedevo a malapena renderizzato Eh Bel colpo Bel colpo Devo dire Quello lì Non pensavo fossi sotto di me A dire il vero Pensavo fossi veramente vicino Infatti Non ti ho visto E mi sono allontanato È stato uno shottino molto tattico Devo dire Ti ringrazio per i complimenti Mi fa piacere Uno shottino di quale alcolico? Chi ti ho interpellato Scusa Comunque Secondi Ok Io non so Perché Eh la minigun Viene ancora a trovarmi Tano Uno Perfetto Perfetto ragazzi Sì ci vengo a trovarti uomo Ci vengo Appena Appena ti trovo Appena ti trovo Povero a te La fine di un bicchiere Ti ha fatto fa No in effetti No in effetti Passando un jet Un jet Dove sono Sì Stanno sei proprio magma vulcano T'ho sentito malefico Dannato Ok Ok Porca puttana Oh Oh Che sei impazzito Bru Ma ti sembra il modo Tontato Ti ha lasciato No Mi ha fatto trovare la sorpresa Raga Marzini di Mv2 No L'ho risato di tec No 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 Stupido No No L'ho visto esplodere Raga No 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 Classico video di Tano Ok Cosa dobbiamo fare Aspecto te Aspecto te Io Io non so Non so più che dire Cioè Stavo volando Mi sono alzato un attimo Volevo levarmi No perché Caricavo l'arma Mentre salivo Spero che sei morto Raccogliere anche Eh boh ma Mi sa che non ce la fai più Stavo caricando l'arma Mentre salivo Me l'ha messa nella seconda mano L'oggetto Ho premuto lei Per levarmelo Però ero in volo Ha fatto il figo con me E poi Intanto Intanto Carotech Carotech Guarda che ho fatto Una fine migliore Della tua Io sono morto In battaglia Tu sei morto da solo Appunto Perché nessuno Può uccidermi Se non me stesso Certo Ah Fino a provo a contare È così Ultimamente Non mi sta più uccidendo Nessuno Sto muorendo da solo Intanto Vedo gente Bella Ma avete tutti Il jetpack È giusto per sapere Oh l'ho intanto Tano L'hai visto Sì sì Ho visto un colpo Arrivaregli in faccia Tocchio Quella è una minigun Si arriva a 3 km Che bel pistolone Che hai Eren stava per fare la fine Eren la fa alla fine Forse Ma è immortale Ragazzi 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 Ma Eren è immortale Si è preso una scarica Si è preso una scarica In faccia E si stava curando Quanti medikit aveva Eren Che cazzo fa Erano precisissime Uomo No Raga Come L'ho fatto L'ho fatto esplodere Non di nuovo Di nuovo La granata in faccia L'hai già fatto con me Questa storia No l'ha fatto di nuovo Con Emerald La stessa identica cosa La stessa identica Morire è stata La cosa più buona Che potessi fare Ti sei chiamato Sono cecchinata Al volo Di L96 No uomo Si è visto Una kill epica Io che Clacciottiare Mi curo Mentre mi spara Bravo Bravo Ma no no Seriamente Guarda che Quello Quello di Emerald Era un'ottima idea Perché ti stavano esplodendo Accanto le sue bombe Però Porca puttana Perché gli spavano Sempre in faccia Per colpa tua Perché Perché io ho visto E mi tirava le granate E gli ho scaricato I colpi lì E gli hanno fatto esplodere Una Io Non ho parole Cioè Va bene Va bene Mia Si